Ha detto io ho tutto, avendo Mario Lui, Juan Jesus comunque utilizzabile a sinistra e mi risulta stia per tornare Goulam, lei non si aspetta quindi un esterno mancino e sempre in quel ruolo. Lei non può fare il mio lavoro. No, io ho fatto una domanda. Sì, sì, ma non faccia il mio lavoro perché non potrebbe farlo. Lo so. Perfetto, io gliela sottolineo perché lei si è dimenticato di Lorenzo, si è dimenticato Malquitt, si è dimenticato Zanoni. Ci stavo arrivando infatti, era due domande. Allora gli sciti lei così gliela mettono a posto, se no poi quando li trovo in strada questi qui che non ha citato verrà che lo sguardo non sarà a livelli troppo pubblici. Era proprio su Zanoni. Lei ipotizza, so che lo stima molto il ragazzo, ipotizza anche... Io stimo tutti, io mi sono portato la rosettina di Rapposta per non dimenticare niente. Io ho gente che può giocare a sinistra se una volta mancasse Mario Rui se gli si può dare un riposo o che gli possano anche prendere il posto perché Mario Rui è come tutti quegli altri calciatori che anche se non ha un dirimpettaio del livello che voi vorreste venire a richiedere ce ne ha quattro o cinque che possono fare quello che fa lui. Per cui, lo torna a ripetere, noi non siamo a posto. Ragazzi, io con le lamentele non ho mai fatto la classifica. A me non è che mi porti beneficio di dire che mi manca uno o l'altro. Per cui i calciatori debbono sapere questo perché non ci manca effettivamente niente. Io ho il problema di scegliere chi sta fuori nella prossima domani sera. Non ho il problema di un posto dove mi manca qualcosa o mi manca qualcuno. Lamentarsi è un po' la teoria degli sfigati perché non ce la posso fare perché invece sei tu che sei fatto così e lamentandoti sempre poi è una teoria che nel nostro gruppo non si può portare avanti.